Grazie Madrasaria è tra le prime ti lascio le reti mi avete preso di sorpresa allora che dire è stata un'esperienza bellissima io ringrazio di aver conosciuto queste persone fantastiche non è retorica, non è una sviolinata ma vi posso garantire che sono veramente delle persone eccezionali io mi auguro che ce ne siano tante altre di questa iniziativa bisogna crederci e loro ci vedono tanto grazie a Pasquale, il regista e a tutti, Antonio, Pasquale, Raffaele Fior d'Aliso, Carmine, tutti, tutti, tutti Bebo! e logicamente grazie al mio corpo di ballo grazie direttiva Tina Tina buonasera Tina, 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 Tina ragazzi, grazie grazie a tutti voi io il più grande grazie lo faccio a questa meravigliosa compagnia teatrale perché questa sera sono state tali io devo dire che la professionalità, l'amore, l'entusiasmo che hanno messo questi ragazzi in questa iniziativa l'arte al servizio del sociale è una cosa che realmente rende onore grazie grazie ragazzi lo sapete che cosa? lo sapete come li ho definiti? un esercito d'amore e a guidare questo esercito ci sono due meravigliose persone Pasquale, il nostro regista e Mario Rosario e in grazie Valla Proloco di Pevano ed ecco il nostro regista si sono tutti morti abbiamo pagati tutti per fastidio grazie a tutti ci sono il primo pensiero allora bene signori grazie a tutti voi noi dello staff facciamo a tutti voi un applauso perché grazie in merito a tutto vostro che il che vanno a arte questa sera è qui in piedi allora Antonio posso tenere la parola? va bene dopo questa ipocrisia credo che insomma i soldi fanno tanto i soldi fanno tanto allora io passerei ai ringraziamenti di chi lavora dietro le quinte insomma nel retroscena grazie grazie a tutti grazie a tutti La nostra puntatrice è Marina Marfella, per i nostri scopi di costumi ringraziamo l'agenzia di animazione sport e spettacolo, club animazione di Casoria. Grazie Cici. Mi filo che direi di ringraziare il nostro servizio d'ordine, le persone che sono riuscite insomma a farmi accomodare ai vostri posti assegnati, ringraziamo Rocco, anche se non c'è stasera di questa campomba luce, Francesco, Marco, Rossella, Pina, Luciana, Gloria e i coordinati da Valentina. Dov'è Valentina? Grazie anche Valentina. Ringraziamo ancora i nostri sponsor, vi do il centro studio musicale, Max Telefonia, Edoras Videogame, Camping Sant'Anastasia, Ipersemmi Fissi in Legno, Gelateria Gelatiano, Trasporti Fure Privanacore, Assicurazioni Abbaia, Milagio Abuchieri, Igea, Gastronomia La Bocchetta dei Fratelli D'Alterio ed un ringraziamento speciale ancora al nostro sponsor ufficiale di club animazione di Casoria. Grazie, un applauso. Grazie.